Un rombo di tuono che ha lasciato un grande silenzio in tutto il mondo dello sport, ma che ha lasciato al tempo stesso un grande ricordo che va oltre i suoi gol, oltre il suo straordinario successo con il Cagliari, con la Nazionale. Gigi Riva è uno di quei personaggi che fanno parte della storia del calcio e che continueranno a farne parte. Noi abbiamo raccolto il ricordo dei bassanesi, sentite. Me lo ricordo, me lo ricordo, ha fatto dei belli anni e tanti tanti gol. Quanto mancherà un personaggio come Gigi Riva al calcio italiano? Eh, mancherà purtroppo parecchio, parecchio. Gigi Riva era un bambino, era rombo di tuono, era un personaggio molto famoso e, come dicono tutti, sempre fedele alla sua maglia. Quindi, da bambino, cosa vuoi dire di Gigi Riva? Gigi Riva era il massimo, era la forza. Quando è scattato ho visto Messico, io ero bambino e l'ho visto. Era una cosa stupenda. Un gran campione, una gran persona, veramente un modello da seguire. Un personaggio è una persona che mancherà quanto al calcio italiano, visto anche quello che lui ha fatto con il Cagliari, ma quello che lui ha fatto anche con la Nazionale. Sicuramente mancherà tantissimo. Era un esempio, diciamo, una persona da seguire, da dare l'esempio ai grandi, ma soprattutto ai piccoli. È un esempio. Dovrebbe essere un esempio, specialmente oggi, per molti calciatori, cominciando qui da Vicenza. Lui ha avuto quel senso di appartenenza, anche se non era nato in Sardegna, ha saputo creare quell'appartenenza che è molto importante nel mondo del calcio, che oggi proprio non esiste, esiste solo il dio denaro.